Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è lunedì 19 settembre 2022, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV, ovviamente la tragedia che si è abbattuta sulle marche e continua ancora a tenere banco sui giornali questa mattina, l'alluvione che ha imperversato su buona parte del territorio marchigiano è un atto veramente eccezionale e ha determinato grandi lutti e rovine, i giornali ne parlano diffusamente questa mattina, vi faccio vedere poi le fotografie che come dicevo anche sabato scorso sono molto più significative dei testi perché evidenziano immediatamente quanto è avvenuto, ma iniziamo la nostra rassegna stampa con l'almanacco per vedere il santo del giorno ed è un santo molto molto noto, San Gennaro, San Gennaro, è il grande santo di Napoli che però era nato a Benevento, fu visse nel terzo secolo e a trent'anni era già vescovo della sua città, della sua città natale, subì la persecuzione di Diocleziano, fu gettato pensato in una fornace ardente ma ne uscì in leso, allora fu dato in pasto alle belve nell'anfiteatro, probabilmente quello di Pozzuoli ma anche le belve si ammanzirano, alla fine fu ucciso con la spada, sangue e capo sono costuditi nella cattedrale di Napoli, i napoletani poi raccossero il sangue versato dal corpo del santo e lo costudirono e ora lo tengono gelosamente e anche oggi si dovrebbe ripetere quel miracolo che da tanti anni si ripete in occasione della festa del santo, ovvero lo scioglimento del sangue e se questo non si verifica si prefigurano brutte nuove per quanto riguarda Napoli e per quanto riguarda l'Italia, ma speriamo che questo non accada. E veniamo alle previsioni del tempo, questa mattina il tempo è ancora buono, su Fano è su parte della provincia di Pesaro Urbino, ma il tempo, dicono i meteorologi, si appresta a cambiare, nubi in aumento dal mattino con acquazione in transito, ovest-est tra pomeriggio e sera, i venti ispireranno moderati da nord e sulle coste, le temperature sono scese notevolmente e si aggireranno dai 17 ai 22 gradi, i venti sulle coste ispireranno da una direzione di nord-nord-ovest, nell'entroterra invece da ovest-nord-ovest le temperature, come ho detto, sono in calo. Vi avevo detto di far vedere le fotografie dei giornali questa mattina per quanto riguarda quello che è accaduto nella nostra regione. Mattia, è un bambino ancora disperso, è sfuggito dalle braccia della madre, colpito dalla violenza delle acque e ancora non si è ritrovato. È la prima pagina del Corriere Adriatico. Mattia, tutti lo cercano, il bambino di San Lorenzo in campo, disperso dopo l'alluvione. I familiari speriamo che si sia arrampicato come un gnometto su un albero e si sia stato almeno trattenuto da un rovo, da un cespuglio, da qualcosa che lo abbia salvato, una speranza, anzi l'ultima speranza per quanto riguarda la sorte di questo bambino. Giustizia nel fango intitola Il resto delle Carlino Marche. Vediamo questa grande fotografia che occupa quasi l'interezza della prima pagina. Vediamo quante rovine, quanti mobili vengono ammassati, ormai completamente rovinati sulla via, via ancora intasata di fango. E vediamo anche il messaggero. Argini senza controllo e anche i meteorologi finiscono sotto indagini. La perturbazione sarebbe stata sottovalutata dagli esperti. I sindaci non sono stati avvisati da quanto è avvenuto, da quanto poi è avvenuto e quindi non hanno preso in tempo i provvedimenti necessari. E questa è una cosa su cui ora indaga la magistratura e sarà una cosa da migliorare, da mettere a puntino per il futuro. E veniamo anche al resto del Carlino. Vediamo qui la prima pagina, questa è la pagina nazionale. Guardate l'estensione di questa alluvione, sembra veramente un lago. L'Italia che affoga è il titolo. Le carte sciocche nei pericoli noti dal 2016. E vedremo come il Misa, questo fiumiciatolo, questo torrente quasi inoffensivo, a vederlo così, che sfocia nei pressi di Senigallia, invece si trasforma in un killer in diverse occasioni. Quando piove intensamente, l'acqua deborda e sommerge i campi al di là degli argi. Allora, apriamo il Corriere Adriatico. Apriamo il Corriere Adriatico e parliamo degli articoli che evidenziano ancora i problemi determinati dall'alluvione. Droni, ruspi e i sub, tutti cercano Mattia. Riprendiamo il discorso del bambino di otto anni disperso. Sommozzatori e strumenti high-tech per trovare il bambino. Una task force in azione. Perlustiamo il nevola palmo a palmo. E lo fanno ormai da diversi giorni e forse i primi giorni l'hanno fatto anche di notte. Cercano questo bambino che il padre e la madre, insomma, sono disperati e quindi aspettano l'esito delle ricerche in maniera veramente drammatica. Vogliamo continuare a crederci, è l'ultima speranza, il mio gnometto, così viene definito, questo bambino sarà su un albero. Il papà e i parenti del bambino non ci arrenderemo mai. E veramente le fotografie pubblicate del bambino destano una grande impressione e una grande pietà. Un mostro che uccide dal 1955 è il Misa. In questa doppia pagina il Corriere Adriatico evidenzia quanto il Misa si è reso pericoloso negli ultimi tempi. A partire dal 12 settembre del 1955, dopo un'intera giornata di pioggia violentissima, a Sanigaglia la sirena d'allarme è suonata per avvertire la popolazione che le acque del Misa minacciano di straripare. E poco più tardi, erano le 19.15 di quel giorno, le acque hanno straripato, sono straripate veramente. Il fiume ha superato davvero gli argini, invadendo parte del corso e inondando le strade dei quartieri Porto e Pace. Ebbene, la prima vittima dell'impeto del fiume fu Amalia Continui, una donna di 67 anni e poi ancora un'altra, Gabriella Massacci di 29. Altre alluvioni si sono verificate in tempi più recenti, nel 1991 e nel 1994, una nel marzo, un'altra nel marzo del 2011 e quella devastante, la ricordiamo tutti, quella del 2014, di cui ricordo era ancora coccente. E poi quello che è accaduto nei giorni scorsi, nell'ultimo fine settimana. Un mostro che continua a uccidere. Scarsa manutenzione, vasche di espansione incomplete, urbanizzazione selvaggia, sarebbero queste le cause che hanno determinato la tragedia appunto dei giorni scorsi. La storia della messa in sicurezza di questo fiume è in realtà costellata di grandi ritardi, intoppi burocratici, inchieste giudiziarie che hanno rallentato i lavori e quindi si è rallentato anche il deflusso delle acque per quanto riguarda la foce. Vediamo qui le fotografie del marzo del 2011, quando la torrente del fiume batte vigorosamente contro gli argini e poi operazioni di salvataggio nel 3 maggio del 2014. 16 settembre 2022 l'immagine non cambia, acqua ancora in prossimità delle case. L'autorità di Bacino ridurre la portata nel centro città del fiume. Questa potrebbe essere una soluzione ma bisogna praticarla. E per quanto riguarda l'economia vediamo che il Corriere Adriatico ci informa come siano state colpite un'attività su tre. La conta dei danni delle aziende, parla Bramucci della Confcommercio, è stata questa volta molto peggio del 2014. Bocchini di Confindustria nella zona di Ostra ci sono imprese del tutto inaccessibili, non ci si può arrivare nemmeno per portare gli aiuti e questo veramente dimostra la gravità della situazione. E la città ferita, la città ferita è quella di Senigallia. 9560 cittadini sono in zona rossa, ovvero nella zona interessata dal debordo delle acque. Le scuole saranno chiuse fino a domani. C'è stato anche un summit in comune, l'alluvione peggiore di otto anni fa, lo hanno ribadito anche gli amministratori. Il sindaco Olivetti, 54 sono gli sfollati, finora censiti. Molti altri però sono ospiti dai parenti. 54 sono quelli che hanno bisogno dell'aiuto delle istituzioni per sbarcare il lunario, almeno nei primi giorni dopo l'illuvione. E per spalare il fango si ritrovano in chat un gruppo di Whatsapp, anche i cellulari in questo caso sono veramente un mezzo importante per costituire un gruppo di solidarietà. Un gruppo Whatsapp di volontari tra i 14 e i 18 anni. Sono i ragazzini che hanno una pratica eccezionale di usare appunto questo strumento di comunicazione. Andiamo dove c'è bisogno, hanno detto questi ragazzini che sono dei volontari. Pensate, 14-18 anni. Mi fanno ricordare un po' quello che accadde negli anni 60, l'alluvione di Firenze, quando molti giovani di Fano, marchigiani, pesaresi, partirono per la città ferita, una delle più belle città italiane ferita dalla esondazione dell'Arno. E poi vediamo quello che sta accadendo nel Pesarese. A Fano si contano i danni, danni e rabbia, perché poi Fano è stata colpita da un fortunale, magari limitato a tre ore, ma con un vento fortissimo che ha fatto strage di cartelli, di alberi, di oggetti che sono stati scaraventati sulle strade. Soprattutto hanno subito danni le concessioni balneari. E qui infatti c'è un bagnino, il bagnino Matteo Renzi, dei bagni Carlo. Avanti così sarà rischio la passeggiata del Lisippo, dice. La conta dei danni e di rabbia, il mare in chioschi e capanni portati via sabbia dello spessore di un metro. Hanno sconvolto veramente la sabbia, dove c'è la sabbia, ma hanno compiuto, ma hanno, si sono verificati danni anche nelle zone della Sassonia, dove l'arenile è costituito da Sassi. E qui vediamo una foto del litorale di Bagni Carlo, completamente sparito sotto la furia della mareggiata, che è arrivata a minacciare con le sue onde addirittura la passeggiata del Lisippo, che è difesa da una barriera di scogli, ma anche questa in maniera precaria non ha quasi retto alla furia del mare. E veniamo un po' anche alle altre notizie, ma sono sempre collegate all'alluvione, alla tempesta che si è verificata la settimana scorsa. Vediamo come, nonostante i danni, le preoccupazioni, timori, lutti che ha suscitato questo evento eccezionale di carattere atmosferico, ci sono messi anche gli uomini ad aggravare la situazione. E mentre squadri di volontari sono impegnati per cercare di limitare i danni, ci sono quelli che vanno a peggiorare la situazione, sono gli sciacalli. I sciacalli che hanno pensato di rubare nel momento dell'emergenza peggiore, hanno rubato strumenti che servivano proprio per venire incontro, per cercare di fronteggiare quanto è avvenuto. Hanno rubato un doblò, hanno rubato delle attrezzature che servivano ai volontari per cercare di fronteggiare l'emergenza. Il fatto è avvenuto a Pergola, rubati dal deposito del comune, furgone e varie attrezzature. E qua vediamo una foto significativa. Caditoie chiuse da foglie e detriti, mai visto un cantiere ripulire? Lo afferma l'assessore, lo afferma il comitato, il comitato che si è costituito per liberare le griglie stradali da fronde, mondizie, terratte, terriccio, tutto quello che si accumula, lo vediamo qui, tutto quello che si accumula nelle caditoie, ma anche l'assessore Enzo Belloni è intervenuto nel cantiere, sollecitando sia i cittadini ma anche le aziende a ripulire le caditoie. Questo è un problema però che non si limita soltanto a Pesaro, ma coinvolge anche tutte le località a Pano e tutte le altre città. Le caditoie devono essere pulite, devono essere funzionali per consentire all'acqua di scorrere nelle tubazioni che poi portano ai depuratori oppure sfogano in mare. L'importante è quindi evitare gli allagamenti nei pressi delle città. alberi abbattuti, i pompieri concludono gli interventi e entrano questa mattina in attività le squadre degli uomini dell'Aspes a Pesaro per ripulire i detriti accumulati. E ci sono ancora alberi in mezzo alle strade, rami che ci sono spezzati dalla furia del vento. E poi vediamo un po' quello che si profila per il futuro. Sempre a Pesaro si prepara il progetto finale per le scogliere di Levante. Adesso corsa per l'affidamento dei lavori. La scadenza è quella del 7 dicembre. In Ballos è l'impiego dei fondi del PNRR. Intanto le mareggiate si divorano le spiagge, oltre che a Fano. Le mareggiate hanno mangiato metri e metri di spiaggia anche nel Pesarese. Insomma, il litorale della nostra provincia è tutto collegato e quindi quello che si verifica a Pesaro si verifica anche a Fano. Un altro articolo riguarda invece un progetto che ormai è giunto alla fase esecutiva. Si parla della cittadella dello sport di Villa Fastigi. A ottobre si apre il primo campo. Il presidente Bosco fa il punto sui lavori, mentre l'assessore Pozzi dice nuovi collegamenti stradali e ciclabili per il quartiere. Ebbene la cittadella dello sport di Villa Fastigi sta prendendo forma. I cantieri di quello che sarà Pesarello Polo del Calcio e Centro Sportivo, Pesarello Polo così si chiamerà questa nuova struttura, sono ben visibili. Il presidente della società di calcio e l'amministratore delegato di Mati Group, Maurizio Bosco, fa il punto su questo articolo dello stato dei lavori, mentre l'assessore Riccardo Pozzi annuncia altri interventi di valorizzazione e miglioramento alla viabilità per il collegamento tra il centro di Pesaro e Villa Fastigi. Insomma una frazione sempre molto importante per il pesarese. Ritirata l'evento di Sgarbi è l'appello della opposizione per quanto riguarda le manifestazioni in onore del Duca Federico. Quello che ha progettato Sgarbi, dice il Comitato, dice anzi il PD e viva Urbino, non c'entra nulla con Federico. Insomma Sgarbi ha immaginato e ha fatto finanziare un evento moderno, di arte moderna. Invece Federico è vissuto nel XVII secolo, tra il 1500 e il 1600, siamo XVI-XVII secolo, ma in realtà dice questo evento è estraneo, eppure costa 200.000 euro. E appunto in Consiglio Comunale si chiede la revoca della delibera che ha autorizzato appunto la mostra. In 104 scoprono il fascino della Raffaello Gravel, questa bella iniziativa di carattere sportivo-turistica che si è svolta ieri nella città Ducale. Una partecipazione anche da fuori regione ha registrato. Gongola la ciclo Ducale che l'ha organizzata. Dunque è un grande successo per questa prima edizione della Raffaello Gravel, insomma una ciclo turistica che ha così coinvolto le strade bianche, strade poco transitate da automezzi, quindi sconosciute, paesaggi, panorami molto molto belli. E tutti quelli che hanno partecipato a questa bella iniziativa sono rimasti soddisfatti. Chiudiamo il Corriere Adriatico e diamo un'occhiata anche a quanto ci dice oggi il resto del Carlino che esce con una edizione regionale, l'edizione Marche. Anche qui fotografie e articoli che riguardano la tragedia dell'alluvione. 9.000 cittadini sono stati coinvolti da questo evento atmosferico di eccezionale portata. Il sindaco di Senigalli Olivetti fa il punto della situazione. Non possiamo accettare tutto questo. Occorrono interventi strutturali che nel futuro evitano il ripetere delle esondazioni. Il territorio varrà diviso in 18 zone. E poi c'è l'inchiesta, insomma, dopo quanto accaduto, ancora una volta si esamina l'emergenza. L'inchiesta nel vivo nuove acquisizioni di atti. I carabinieri forestali hanno sorvolato tutte le zone dell'alluvione, hanno scadato fotografie, hanno girato anche dei video. Un filmato di due ore sarà consegnato alla Procura. Procura che dovrà accertare le responsabilità per quanto riguarda la mancata segnalazione preventiva di questi eventi. A fondo anche il processo, quello che si era intentato nelle precedenti alluvioni, quelle del 2014, quasi tutti i reati però in questo caso sono stati prescritti. Otto gli imputati per l'alluvione del 2014. Il procedimento rinviato all'Aquila per incompatibilità di due giudici è un mare di eccezioni. Resta l'accusa di inondazione colposa, però tutte queste eccezioni e poi rinvii, via dicendo, l'incompatibilità dei giudici hanno prolungato i tempi e ora arriva la prescrizione. Ebbè, anche questo è un segno di inefficienza della giustizia italiana. E tutta Italia corre in aiuto di Simone, nel fango ha perso mamma e sorella, già 20.000 euro raccolti a GoFundMe, grazie appunto a GoFundMe e all'iniziativa del Molino Mariani, distrutto dall'alluvione. Protezione Civile Mar, che c'era una volta un gioiello, intitola ancora il resto del carlino. Dall'apparato protagonista in eventi calamitosi e estremi come Pakistan e Haiti, resta pochissimo. A Guzzi abbiamo riorganizzato evento meteo imprevedibile. Aguzzi è l'assessore regionale alla Protezione Civile, ha detto che ha riorganizzato il gruppo. Comunque l'evento che si è verificato è stato un evento imprevedibile e quindi poco si poteva fare in maniera preventiva. Molto si è fatto invece dopo, quando il danno era stato provocato. E vediamo anche ancora un'immagine di Cantiano, questa immagine di tante cose, frutto del lavoro, della gente ammassata sulle strade in un mare di fango. Un mese per riprendere o chiudiamo. Gli imprenditori del posto, del posto di Cantiano, con le fabbriche ancora sommerse dal fango, avvertono i nostri committenti pronti ad abbandonarci. Se questa volta non arrivano in maniera efficace e in maniera veloce i contributi, gli aiuti, ebbene l'economia risca di naufragare. Ma non nell'acqua, nel fango, questa volta che è ancora una cosa peggiore. Ebbene a questo punto chiudiamo le pagine che riguardano le notizie di cronaca, diamo un'occhiata anche allo sport. Ebbene, Vis e Granata dell'Alma hanno concluso le rispettive gare in pareggio, però insomma la Vis poteva vincere. Questo è un po' il rammarico che i giornali esprimono questa mattina. Vis cinica, ma al novantesimo arriva la doccia gelata. La gara con il Pontedera si è conclusa uno a uno. A Pontedera un buon match dei biancorossi con Fedato che va in gol al trentesimo. Allo scadere però della partita un diagonale di Petrovic fa svanire i tre punti. La Vis si accontenta di un punto. Un quarto risultato utile e consecutivo. Una lezione di cinismo per i primi 45 minuti, dice Riccardo Spendolini del resto del Carlino. E vediamo anche come il resto del Carlino ci dà notizia del risultato del Fano. Occasioni continue, ma Tolentino e Fano si conclude con lo 0 a 0. Una traversa nella prima frazione dei Granata, poi nella ripresa i padroni di casa finiscono, falliscono con un penalty con Vitiello e prendono un palo nel finale. Peccato. Insomma, questa partita poteva essere utile sia per la Vis che per il Fano Calcio o comunque uno 0 a 0 possiamo accontentarci, anzi si accontentano i tifosi pesaresi e i tifosi fanesi. E questo è tutto per il momento. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 con occhio alla notizia su Fano TV, il telegiornale, per le notizie del giorno. Grazie per l'ascolto, a risentirci.